carissimi pace del signore voi tutti una buona giornata leggiamo questa mattina nel libro della genesi capitolo 19 i versi da 30 a 38 sono diversi particolari perché viene riportato un episodio poco convenevole e poco edificante è un caso di incesto le figlie di lotto infatti decideranno di unirsi al loro padre dopo averlo ubriacato ci potremmo chiedere perché viene riportato questo evento ora ci dobbiamo ricordare che la bibbia non fa altro che raccontare gli eventi che si realizzarono in mezzo a determinate persone esattamente come farebbe un cronista del nostro tempo e questo ha lo scopo di mettere in guardia ognuno di noi dai possibili tranelli del peccato nei quali noi possiamo cadere noi possiamo trarre insegnamenti da esempi positivi ma possiamo trarre insegnamenti anche da esempi negativi nel primo caso siamo chiamati ad imitare quei comportamenti nel secondo caso invece siamo chiamati a evitare quegli atteggiamenti e questo è il caso il caso di questo passo di questo brano che abbiamo letto innanzitutto vediamo l'atteggiamento della maggiore di queste due figlie la quale dice nostro padre è vecchio non c'è nessuno sulla terra per mettersi con noi come si usa in tutta la terra vieni diamo dal bene da bere del vino al nostro padre corichiamoci con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre come si usa in tutta la terra beh ancora oggi c'è una tendenza a seguire le usanze che ci sono nel mondo intorno a noi e spesso questo diventa una giustificazione per dei comportamenti che magari non sono eclatanti come quelli delle figlie di lot ma che non sono da meno peccaminosi come questi perché è vero che noi facciamo delle classifiche riguardo ai peccati ma anche tanto vero che la parola di dio ci insegna che il giudizio del peccato è la morte a prescindere di quale esso sia piccolo secondo noi o grande sempre secondo noi ed è importante che noi siamo delle persone che anziché guardare a ciò che si usa fare nel mondo a ciò che si usa fare intorno a noi guardiamo a quello che si usa fare in mezzo al popolo di dio quello riscattato quello rigenerato quello trasformato dall'opera della grazia sono quelli gli esempi che dobbiamo seguire sono quelli gli esempi a cui noi dobbiamo guardare sono quelli i comportamenti che noi dobbiamo imitare e dio ci aiuti ci aiuti perché siamo circondati dal peccato siamo assaliti dal peccato e vogliamo combattere il peccato mantenendo la nostra mente pura da ogni contaminazione di questo mondo come si usa in tutta la terra ecco noi vogliamo fare non come si usa in tutta la terra ma come insegna la parola di dio e anche se questo delle volte ci porta ad essere diversi non fa nulla noi non dobbiamo essere strani certo ma diversi dal mondo e dalla corruzione di questo mondo sì a questo anzi noi siamo proprio chiamati perché siamo una luce in mezzo a un mondo di tenebre e luce e tenebre sono due cose opposte tra di loro la seconda considerazione che voglio fare è che essi esse anzi non si fecero scrupoli sui mezzi che adottarono per raggiungere il loro scopo ubriacarono il loro padre si unirono approfittando dell'ubriachezza del padre all'hot ecco c'è un principio che spesso viene ripetuto anche se interpretato in modo sbagliato il fine giustifica i mezzi nelle vie della grazia non è così non è importante l'obiettivo che dobbiamo raggiungere e in base a questo quindi possiamo fare tutto quello che ci viene in testa quello che è importante che nel raggiungere l'obiettivo usiamo dei metodi che siano dei metodi graditi e approvati da parte del signore allora anche quando l'obiettivo può essere nobile se per raggiungere questo obiettivo siamo costretti a seguire delle strade sbagliate fermiamoci cari fermiamoci perché non possiamo pensare di essere in quel momento o al centro della volontà di dio e queste donne queste ragazze non si accorsero di queste e delle volte neanche noi ce ne accorgiamo siamo talmente presi da raggiungere determinati risultati dall'ottenere determinati obiettivi che non ci importa quello che facciamo non ci pensiamo minimamente ci basta andare in chiesa ci basta aver letto aver pregato ma attenzione se noi ci stiamo comportando in modo contrario alla parola di dio quel leggere quel pregare non è un modo per coprire i nostri comportamenti sbagliati non lo deve essere anzi è un aggravante ulteriore perché vuol dire che stiamo indurendo il nostro cuore alla voce di dio e alla parola del signore perciò fratelli cari sorelle care dio ci dia sapienza e intelligenza per saper discernere il bene dal male e scegliere il bene affinché come dice la scrittura noi possiamo vivere non è il fine che giustifica i mezzi ma in funzione di quello che noi vogliamo realizzare se è nella volontà di dio dobbiamo e vogliamo quindi seguire dei metodi che siano divini non vogliamo sentirci dire dal signore le parole che vennero rivolte a pietro tu non hai il senso delle cose di dio no noi vogliamo avere il senso delle cose di dio e affinché questo sia possibile è necessario che la nostra mente sia stata trasformata rigenerata perché quello che notiamo è che queste ragazze nonostante fossero state salvate da sodoma nonostante fossero uscite da sodoma ragionavano ancora come i sodomiti e vedete cari noi nel momento in cui accettiamo la grazia di dio abbiamo bisogno che la nostra mente sia rinnovata sia trasformata perché dobbiamo avere dice la scrittura non io la mente di cristo e questo significa che il nostro modo di ragionare è diverso da quello che avevamo prima di convertirci e sapete il mondo che intorno a noi ha bisogno di vedere dei cristiani che ragionano secondo le scritture secondo la guida dello spirito santo i nostri familiari hanno bisogno di vedere in noi delle persone che agiscono non sotto l'impulso dell'istinto naturale ma sulla base di quello che la parola di dio insegna queste ragazze non lo fecero seguirono l'istinto l'impulso seguirono le tradizioni umane seguirono i loro obiettivi senza curarsi di quello che di quelle che erano le conseguenze signora aiutaci oggi tutti i giorni della nostra vita a ricordarci che se siamo usciti dal mondo perché abbiamo ascoltato la voce del nostro amato salvatore gesù cristo non possiamo più comportarci come il mondo nella corruzione nel peccato ma dobbiamo vivere e camminare in novità di vita e questo oggi vogliamo fare con l'aiuto di dio e riflettendo attentamente su come parliamo su come agiamo e su come reagiamo in modo da non disonorare dio ma da in modo da poter continuare a brillare come luminari in un mondo perduto che dio ci aiuti cari nella grazia e che la sua pace la sua guida e il suo aiuto alla sua forza sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme grazie a tutti